Ciao a tutti diamanti e diamanti, io sono Kumberkin e oggi saremo in un gioco molto 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 bello. Quanto ridere! Quanto ridere! Ahah, quanto mi diverto! Questa challenge non l'ho decisa io, ma l'hamburger ci sta. Allora, cominciamo con questo. E vieni qua! E vieni qua! Oggi siamo su dei tre giochi, o quattro. No, quattro giochi. Questa è la mia preferita. Ma si dai! Scegliamo il ciccione che non è mai mai. Foro! Il grasso vola, il grasso vola, il grasso vola, il grasso vola, il grasso vola! Ragazzi iscrivetevi al canale e lasciate... Like! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E niente, lasciate un commento se vi piace questo gioco. E che ragazzi non ho fatto video per tanto perchè... Questo periodo ero un po' impegnato ragazzi sapete. ho tante cose da fare sport e affinità e niente quindi non avevo fatto tanti video oh polaretti noi no porti polaretti cambiamo sempre personaggio lui cosa fa ehi vieni qua io sono cimicoloso madonna tre maschi e una femmina come fa la femmina a sopportarci ehi cicciona aah au ragazzi questo gioco l'ho trovato su play store eh solo io lo sapevo ecco proviamo tutti già che ci siamo ma come salta ma come salta vabbè ma come ma che salto ma come salta il mio preferito sinceramente sarebbe lui però anche lui mi piace un sacco lui mi fa cagare scusate scusate lei mi fa pena per come salta lui mi fa pena perché perché è bellissimo lui è una figata mortale mi sceglierò lui ultima partita dopo scegliamo un altro gioco mi piace il tamburo dei polaretti dai si superamo un record si superamo un record si superamo un record si superamo un record cora corazza ragazzi adesso cambieremo il gioco ragazzi attenti ci sono una radiazione di un gioco troppo potente volete vedere il mio robot beh lo vedrete non appena si carica il gioco ragazzi non faccio annoiare il gioco oh mio dio ragazzi oggi ragazzi siamo in un gioco che parla di gatti di un'avventura di un gatto che ha incontrato un altro gatto che ha inventato che ha incontrato un altro gatto che poi un altro e poi un altro gatto e poi un altro no non voglio niente e poi un altro gatto e poi un altro gatto io ho capito e poi un altro gatto e poi un altro gatto e poi un altro gatto la cacca non ce la faccio questo livello è troppo difficile altro gatto questo gioco è molto complicato ragazzi non ve lo installate scherzo il piacere vostro muori questo gioco non è normale ragazzi prima parte superata con nessuna difficoltà no odio gli spaventa passerì come si fanno a sconfiggere i nemici senza farti male te stesso adesso 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 attento cacca 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 ok ragazzi siamo qua siamo qua a sconfiggere 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 Sì, sì, sì. Oh my god! Nuovo gioco, nuova vita, nuova vita, nuova vita, nuova vita, nuova vita, nuova vita, oh ragazzi ci siamo, ci siamo, ci siamo, possiamo fare qualunque cosa, ok, facciamo ride, oh non c'è connessione, porca miseria, mi metto qua, forse c'è connessione, no, aiuta, che skin però è fighissima, maronna, aspetta ragazzi non ci siamo capiti bene, ok ragazzi oggi siamo qua su brawl stars e adesso mettiamo ride perché mi piace, scusate, è quello che mi piace troppo, ride, 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 ok giochiamo, oh porca miseria non c'è connessione, ciao ragazzi e per oggi è tutto, ciaoone perché non c'è connessione, e ciao!